la terza dose in italia ci sarà noi partiremo sicuramente già nel mese di settembre per le persone che hanno fragilità di natura immunitaria. La strada da percorrere è quella della vaccinazione obbligatoria ne abbiamo tanti di vaccini obbligatori nel nostro paese. Chi non vuole fare l'impasse o vuole fare il vaccino per motivi medici o per scelta personale deve avere la possibilità di avere tamponi gratuiti come tutti quanti anche per riposti di lavoro e di ristorazione nella piliera culturale. Sappiamo che giovedì c'è una cabina di regia del governo, laddove si dovesse decidere come noi spieghiamo l'obbligo gratuito, l'obbligo del Green Pass all'interno dei luoghi di lavoro e le parti sociali trovassero un accordo su questo, credo che ci possa essere da parte del governo un riconoscimento di questo passaggio, di questo possibile accordo tra noi e i sindacati e quindi credo che il governo potrebbe a quel punto pensare di fare un'operazione di utilità sociale e quindi potersi far carico del costo dei tamponi. Sicuramente non può essere a carico delle imprese. L'impegno è che quando si cominciava a discutere della legge di bilancio, quindi fra fine ottobre, inizio novembre, a mia prima firma, in Senato, siccome si comincia il Senato, si chiederà di rivedere o cancellare il reddito di cittadinanza, faremo entrambe le proposte. E allora ripetisco che il reddito di cittadinanza è l'equivalente del vendatore di Stato. Tutti quei soldi, eccetto una minima parte, vanno per beni di assoluta necessità. Chi propone l'abrogazione di questa misura, credo che faccia una politica irragionevole, contraria agli interessi del Paese, non dei singoli cittadini beneficiari. Sono atteggiamenti migliacchi, se fatti poi da esponenti che godono di trattamenti da parte nello Stato bene e cospicui. Buongiorno, buongiorno cari telespettatori. Allora il dibattito continua a essere incentrato, come avete sentito, sul Green Pass, sull'estensione del Green Pass. Anche il capo di Confindustria, Bonomi, dice va bene sui posti di lavoro, però il tampone si è a carico dello Stato, del Governo. E poi c'è la questione che si incrocia con il Green Pass, che è quella della possibile introduzione dell'obbligo vaccinale. Sullo sfondo c'è un altro tema che sta agitando molto le forze politiche, che è quello del reddito di cittadinanza. La Meloni, ripete, è metadone di Stato. Salvini, che pure all'epoca lo votò nel Governo giallo-verde, dice è stato un errore, bisogna abolirlo. Conte e i Cinque Stelle lo difendono strenuamente. Il Partito Democratico dice ci vuole un tagliando. In verità un tagliando lo chiedono anche altre forze politiche. Poi c'è Renzi, che vuole un referendum per abolirlo. Poi cosa scopriamo ancora? Scopriamo che ci sono 1.500 medici circa che non si sono vaccinati. Di questi 1.500, 1.000 stanno ancora esercitando, come si dice, la professione e 500 sono già stati sospesi dagli vari ordini dei medici. E quindi anche questa è una situazione complicata, critica. Sapete che per tutti i sanitari, per tutto il personale sanitario, c'è l'obbligo di vaccinazione. Cominciamo da qui. Intanto vi presento gli ospiti di stamattina. Bentornata all'onorevole Barbara Saltamartini della Lega. Buongiorno. Buongiorno. Che peraltro corre per il Consiglio Comunale nelle prossime elezioni a Roma. Esatto. Buongiorno. Bentornata Marco Rizzo, segretario del Partito Comunista. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Che anche lui corre per le suppletive, come si dice, di Siena, dove per capirci è candidato l'attuale segretario del Partito Democratico, Letta. Sono di ritorno da ieri sera, abbiamo fatto una prima riunione organizzativa. La sfida di Siena, poi ne parliamo. Buongiorno. Sta sereno, Letta. Sta sereno. Aia. Bentornata l'onorevole Lia Quartapelle del Partito Democratico. Bentornata. Buonasera, grazie per l'invito. Anzi, buongiorno, grazie per l'invito. Grazie. Sì, no, ho detto buonasera, ero rimasto un attimo, ho detto no. Siamo ancora all'inizio di giornata. Bentornata ad Alessandra Ghisleri, Olo Media Research, che ci aiuterà molto oggi. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Grazie per l'invito. Allora, posso farvi vedere una cosa, perché adesso tra poco andiamo in pubblicità, però voglio farvi vedere una cosa per arricchire, diciamo, il confronto su questi temi, perché è stata molta sorpresa l'adesione di Alessandro Barbero, che è un docente di storia medievale ed è insomma un divulgatore noto, all'appello credo ormai di oltre 300 docenti universitari, tra loro anche molti vaccinati, che dicono il Green Pass, così come è stato pensato, obbligatorio per il personale universitario, per gli studenti, è discriminatorio. sentite cosa diceva Barbero qualche giorno fa. E poi naturalmente un altro motivo per cui si finisce all'inferno è quando si è ipocriti. E cioè non si ha il coraggio di dire le cose come stanno e si... Allora io non voglio dire... Capite? La categoria più disposa. Però, appunto, un conto è dire, signori, abbiamo deciso che il vaccino è obbligatorio, perché è necessario e di conseguenza adesso introduciamo l'obbligo. Appunto. Io non avrei niente da dire, anch'io, su questo, come il segretario. E un conto è dire, no, che non c'è nessun obbligo, assolutamente, per carità. Semplicemente non puoi più vivere, non puoi più prendere i treni, non puoi più andare all'università, eccetera, però no, 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 non c'è l'obbligo, è il modo più assoluto. E del resto questo serve, perché il vaccino serve davvero e il Green Pass serve per questo, non per indurre la gente a vaccinarsi col sotterfondo, assolutamente no, per carità. Ecco, io credo che Dante, il girone degli ipocriti, avrebbe trovato modo di riempirlo fino a farlo traboccare, scegliendo fra i nostri politici di oggi. Oh, gli ipocriti! Alessandro Ghisleri, allora, perché questo è un punto non secondario, insomma, su cui secondo me c'è da fare un grande ragionamento, perché si dice il Green Pass in fondo è un obbligo di vaccinazione sul rettizio senza che il governo, che è lo Stato, si assuma la piena responsabilità di introdurre eventualmente appunto l'obbligo vaccinale, è così? In teoria sì, visto da questo punto di vista sì, è interessante osservare una cosa però, nelle piazze abbiamo i Novax che sembrano quasi a espressione totale di destra e invece tutta la parte dei filosofi e della parte della filosofia di sinistra si muove sul no al Green Pass e quindi questo dimostra quanto non sia lineare la comunicazione, perché poi la gente, per il 75%, è favorevole al Green Pass, è favorevole alla vaccinazione obbligatoria, è favorevole a quelle situazioni che potrebbero portare di nuovo la normalità, quella normalità che abbiamo abbandonato alle soglie del 2020. Allora su questo è necessario riuscire a costruire un percorso di informazione chiara per aiutare la gente, perché è vero, alla fine il Green Pass la gente si è vaccinata di più, i ragazzi ne hanno dato l'esempio all'inizio dell'estate per poter accedere a locali, per poter accedere a mezzi di trasporto, per tornare alla normalità. Pensate qua a Milano c'è il Salone del Mobile, per entrare devi esibire il Green Pass per salire su determinate cose, poi ci sono le incomprensioni ovviamente, cioè le incomprensioni sono quelle non nei tragitti a breve percorrenza non è necessario, e però pensiamo ai treni dei pendolari sono sempre molto ricchi e carichi di gente, allora bisognerebbe riuscire a costruire un percorso che sia unitario, soprattutto per non confondere la gente, perché quel 25% che si dichiara scettico abbiamo un 10% che è no vax to cure, cioè contro anche altre tipologie di vaccini, chiamiamoli più istituzionali, ma il restante 15% sono persone che vogliono riflettere, hanno paura, paura del vaccino, paura delle conseguenze, non capiscono il bilancio rischi, benefici, e quindi rimangono restie e molti pensano ancora al poter raggiungere l'immunità di gregge grazie a chi si vaccina e quindi escludendo la loro partecipazione. Grazie agli altri, no? Grazie agli altri. Grazie agli altri, peraltro insomma proprio l'altro giorno le parole nette, diciamo sferzanti del capo dello Stato a proposito dei no vax e a proposito della vaccinazione. Sulla scia di quanto diceva Alessandra Ghisleri, mi ha colpito quello che dice in un'intervista oggi Pierluigi Bartoletti, che è il vice segretario della Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale, la sigla è FIMG, e che cosa dice? Dice noi medici di medicina generale abbiamo fatto oltre, nei nostri studi, oltre 100.000 vaccinazioni, nonostante abbiamo avuto anche problemi di approvvigionamento con i vaccini. E racconta le tipologie di persone che si recano dagli studi medici, negli studi medici ci sono i NIVAX che hanno dubbi, noi non facciamo un discorso da imbonitori del vaccino, facciamo un rapporto rischio-beneficio e cerchiamo di farli ragionare. Una persona è venuta a chiedere l'esenzione per il vaccino. Le ho spiegato che stava chiedendo l'esenzione per le stesse malattie che la classificavano come persona fragile e come categoria prioritaria per il vaccino. E alla fine si è convinta e si è fatta il vaccino. Poi dice ci sono gli ideologici, che sono pochi, ma con questi un medico può fare poco perché si basano su cose irrazionali. Ed è anche un po' frustrante perché se io smonto un argomento ne nasce subito un altro. E poi da un altro esempio mi è capitata anche una famiglia di NOVAX che non siamo riusciti a convincere. La madre si è ammalata ed è morta di Covid. Il figlio è stato ricoverato e ancora adesso ha i postumi della malattia. Chiedo a Marco Rizzo se la pandemia ha fatto tutti i danni che conosciamo e che sappiamo. Se appunto c'è ancora il rischio per i più fragili, per chi magari non si è vaccinato, di finire in terapia intensiva e addirittura magari di perdere la vita. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un governo, ma forse più di un sistema pessimo, che usa la pandemia. Tutta questa discussione di divisione tra il popolo, anche di odio nelle famiglie, nei bar, nei luoghi di lavoro, è fatta ad arte per coprire le irresponsabilità del governo, dei governi e del sistema. La pandemia esiste, certamente. Bisogna batterla principalmente con la salute pubblica, perché se abbiamo più medici, più strutture, più ricerca, dobbiamo abolire i brevetti sui vaccini che hanno dietro un profitto enorme, che comandano gli Stati. Tutto questo invece non viene detto, viene tenuto nascosto e mentre si fanno operazioni terrificanti di politica economica nel nostro paese, sono partite, stanno per partire 60 milioni di cartelle esattoriali, abbiamo una profilatura dei posti di lavoro con delle crisi e vertenze, licenziamenti che saliranno enormemente, noi dividiamo il popolo su vax e no vax. Sono volute queste cose e io sono assolutamente sterefatto. Noi siamo assolutamente contrari al Green Pass, perché, scusa, per entrare qua ho fatto il Green Pass, ma se io salgo sulla metropolitana stamattina alle 7, il Green Pass non me lo fanno. E quindi di che cosa stiamo parlando? Altro che ipocrisia. Allora, ripartiamo tra un attimo. Dopo la pubblicità vi facciamo sentire anche, tra l'altro, quello che ha detto il governatore della campagna De Luca a proposito di vaccini e di obbligo vaccinale. Tra poco. Quando si decide di rendere obbligatoria la vaccinazione per i bambini da 0 a 6 anni, noi iniettiamo vaccini ai bambini, ai nostri figli, ai nostri nipoti contro la poliomielite, la tubercolosi, la difterite, la meningite. Nessuno ha detto io voglio essere libero, tranne qualche squinternato, Novavax. Anche per i vaccini ai bambini c'erano Novavax, in modo particolare nel mondo 5 stelle. Abbiamo avuto addirittura un ministro della salute che veniva dal mondo Novavax. Quello che abbiamo visto in Italia in questo decennio andrà scritto sui libri di storia, di cronaca e anche sulla storia del cabaret. Noi dunque abbiamo deciso l'obbligatorietà della vaccinazione per i bambini piccoli, altrimenti non possono andare a scuola perché rischiano di far morire altri bambini immunodepressi, bambini che sono in cura per la leucemia. Poi troviamo vecchi caproni di 60 anni. Io sono libero, che sei libero? Bene ha fatto Draghi a confermare che si va in direzione netta verso anche l'obbligo della vaccinazione, come giusto che sia. Allora, Barbara Saltamartini, voi lo ha ripetuto Salvini l'altro giorno, se si dovesse arrivare all'obbligo vaccinale non voterete questa decisione o no? Sì, no, noi siamo contrari all'obbligo, anche ribadito dal nostro segretario Matteo Salvini. C'è stata, come sapete, una riunione con i governatori della Lega dove è stata data una linea di indirizzo, secondo noi di buonsenso, che è quella di continuare a favorire ovviamente la campagna di vaccinazione, senza renderla obbligatoria, di lavorare sul Green Pass in modo da evitare costanti difficoltà per i cittadini. Ne ha citato uno prima Rizzo, qui viene chiesto il Green Pass e metropolitana no, c'è un po' di disarticolazione. In tal senso, lavorare per rendere dove necessario il Green Pass, perché noi riteniamo che nei grandi luoghi di aggregazione, nei posti pubblici, dove c'è la possibilità ovviamente che ci sia tanta gente, sia giusto avere il Green Pass come strumento per tenere aperte le strutture per poter continuare a lavorare evitando nuovi lockdown come qualcuno, diciamo in maniera anche un po' improvvida, sta continuando a denunciare come eventualità. E il riferimento è a Speranza, il ministro Speranza. Il ministro Speranza ovviamente. Dicevo quindi, sì ok, il Green Pass, però allo stesso tempo sappiamo bene che il Green Pass può essere ottenuto sia perché hai fatto il vaccino, ti sei vaccinato, sia perché hai fatto un tampone. Allora in tal senso, proprio per evitare l'obbligo vaccinale e dare la possibilità di ottenere il Green Pass anche con il tampone, noi chiediamo che per le categorie che hanno la necessità di esibire il Green Pass il tampone sia gratuito. Credo che questo sia di buonsenso e anche una mediazione perché sono anch'io convinta che dividere il popolo tra Novax e C-vax non è opportuno in questo momento e crea semplicemente odio sociale e tra l'altro difficoltà relazionali l'uno contro l'altro. Ma voi stizzate un po' l'occhio ai Novax? Personalmente no, assolutamente. Io sono vaccinata, convinta del vaccino. Mi sono affidata personalmente alla comunità scientifica, devo però dire anche una cosa, che ci sarebbe bisogno di sentire una voce unica della comunità scientifica. Questa è la vecchia discussione sulle tante voci. Troppo spesso abbiamo avuto in tante trasmissioni, anche nella vostra, dove avete ospitato autorevoli figure della comunità scientifica, medici, innanzitutto virologi, dove spesso e volentieri i cittadini, io stessa, mi sono trovata di fronte a due posizioni diametralmente opposte e posto che io non faccio il medico, o tiro la monetina in alto e vado a caso a fidarmi o magari sull'empatia che mi stimola uno o l'altro posso decidere. Insomma, ecco, ognuno faccia il suo lavoro, lo faccia bene. Ma anche la comunicazione, da questo punto di vista, ovviamente, ha avuto... Anche la comunicazione, prima la dottoressa... Dei problemi, delle criticità, adesso certo è un'altra fase rispetto a quella... Prima la dottoressa Gisleri evidenziava anche un po' quello che sta succedendo, sembra che i Novavax siano tutto a destra, però poi i maggiori esponenti del no Green Pass è tutta l'intelligenza, chiamiamola così, che afferisce alla sinistra. Allora, anche questo, insomma, è un po' una contraddizione in termini, io credo invece che oggi, tra l'altro, perché siamo anche contrari all'obbligatorietà del vaccino, ad oggi il 75% della popolazione, anche perché c'è il Green Pass, penso ai giovani, si sta vaccinando, quindi noi stiamo andando naturalmente verso, diciamo, una completazione del ciclo vaccinale che può garantire la famosa immunità di gregge. Allora, in tal senso, perché mettere l'obbligo se effettivamente stiamo andando in quella direzione? No, perché lei sa che siccome, appunto, c'è, a parte la variante Delta, che è quella prevalente, ma in arrivo potrebbero esserci, facciamo tutti i dovuti scongiuri, altre varianti, si alza l'asticella e gli esperti che le citava dicono che bisognerebbe arrivare almeno al 90%. Io mi auguro che ci si arrivi, però ecco, non ci si può arrivare solo con l'obbligo a quella percentuale. Io credo che invece tanti cittadini italiani abbiano capito l'importanza e ci stiano arrivando gradualmente con delle informazioni giuste, da una parte. Dall'altra, calcoliamo sempre che quando sarà opportuno arrivare a riflettere rispetto ai dati anche delle ospedalizzazioni, allora sarà giusto e doveroso risiederci intorno a tavola e capire la situazione. Ma attualmente mi sembra che la situazione sia, per fortuna, dico io, sotto controllo, grazie anche a quel 75% che si è vaccinato. Allora, riparto con una cosa che dicevamo prima da lì a Quartapelle, dando anche conto di quanto ha detto stamattina il ministro Giovannini, perché prima ne abbiamo parlato, ma perché sugli autobus in metropolitana non c'è il Green Pass, Giovannini ha detto stamattina non si può imporre il Green Pass sul trasporto pubblico locale semplicemente perché dal punto di vista organizzativo non sarebbe gestibile. E peraltro Giovannini, che proprio nei giorni scorsi aveva parlato della figura del controllore da reintrodurre, ha fatto sapere che i controllori in questa prima fase opereranno a terra, non sull'autobus, per evitare ad esempio di far salire le persone quando l'autobus è pieno, questo per evitare mezzi di trasporto pubblico congestionati. Lì a Quartapelle le pongo la domanda che facevo all'inizio, cioè se il Green Pass per molti è un obbligo vaccinale sul rettizio, ma a questo punto si decida, poi vedremo in Parlamento che succede, di introdurre l'obbligo vaccinale to cure, no? Io credo che abbia molto ragione Alessandra Ghisleri, cioè bisogna guardare i fatti. Il virus lascia poco spazio alle ideologie, e lascia poco spazio a fantasie. Il virus c'è, lo abbiamo imparato, sono quasi due anni che ci conviviamo. In questo senso il governo sta cercando di fare fronte con dei fatti. Alessandra Ghisleri prima ci diceva una cosa molto giusta, il 25% delle persone che non sono vaccinate, per fortuna non sono tutti dei no-vax duri e puri. Ce n'è un 15, 17, 18% di persone che devono essere accompagnate, di cui bisogna capire i dubbi, i limiti, le paure, e cercare di affrontarli insieme. In tanti, durante questi due anni, siamo stati spaventati di tante cose, no? E quindi alcuni hanno superato le paure, si sono fidati, altri fanno un po' più fatica per storia personale. Su questo 15-18% si deve lavorare, cercando di evitare di dare messaggi che sono un po' sconclusionati. Io prima sentivo la collega Saltamartini, lei diceva, noi siamo a favore del Green Pass, anzi, secondo noi lo dobbiamo mettere anche in metropolitana, però, allora, non confondiamoci, cerchiamo di fare delle cose che sono fattibili. Il Green Pass è uno strumento che ha come messaggio il seguente, chi vive in comunità ha degli obblighi. Ci si vaccina per sé e per gli altri, se non ci si vuole vaccinare, si devono tenere comunque dei comportamenti attenti, tra questi, se si vuole frequentare la comunità, si fanno i tamponi. Per chi non può vaccinarsi, perché è fragile, perché ha delle esenzioni particolari, vengono dati dei tamponi gratuiti, per esempio nelle scuole, i fragili hanno i tamponi gratuiti, ma per chi decide di non vaccinarsi, si mettono a disposizione tutta una serie di strumenti per capire perché le persone decidono di non vaccinarsi. E se continuano su questa strada, Quali sono questi strumenti? Lì a Quartapelle, quali sono questi strumenti? Scusi, quali sono questi strumenti che vengono messi a disposizione? Prima è stata letta una intervista, secondo me molto bella e molto utile, di un medico di famiglia. I medici di famiglia in tutte le regioni stanno facendo un lavoro molto serio e capillare, che va riconosciuto, di contattare tutti i loro pazienti e spiegare perché è importante che ciascuno si vaccini. È importante prima di tutto per sé, perché i rischi a cui uno va incontro sono rischi gravi. È vero che magari l'amica ha avuto il Covid in forma sintomatica o lieve, ma è anche vero che ci sono persone, soprattutto sopra i 50 anni, che di Covid sono morte. Oggi negli ospedali il numero di morti e di contagiati è un numero soprattutto dato da chi ha fatto una dose o nessuna dose di vaccino. Ora, la libertà esiste. Va detta un'altra cosa, che dice Barbero, siamo ipocriti. Io sono una grande fan di Barbero storico, questo non mi permette di dissentire da lui come esperto di sanità pubblica. Non è vero che c'è l'ipocrisia sull'obbligo vaccinale. L'obbligo vaccinale in Italia già esiste per alcune categorie, nessuno lo nega. I medici e le professioni sanitarie hanno un obbligo vaccinale. Nessuno ha mai detto che non è così. Si sta ragionando sulla possibilità di estendere l'obbligo vaccinale a determinate categorie, nessuno dice che si deve estendere un obbligo vaccinale su tutta la popolazione, per le ragioni che diceva prima Alessandra Ghisleri, che un conto è farlo motivando categoria per categoria, un altro conto è obbligare 40 milioni di italiani ai vaccini anche chi recalcitra, perché non si riesce. È inutile mettere degli obblighi se poi non si riesce a controllare. Ora, io credo che... Quindi sei contrari anche tu all'obbligo? Cioè, da questo ragionamento, scusami per capire io, no? Sei contrari anche tu all'obbligo vaccinale. Ma, mi scusi, onorevole Saltamartini, noi abbiamo votato l'obbligo vaccinale per i medici. Sì, no, stiamo parlando di estendere l'obbligo vaccinale a tutti, questo è il tema, credo, no? Ma nessuno sta parlando di estendere l'obbligo vaccinale a tutti. Stiamo dicendo c'è un obbligo relativo ad alcune situazioni e ad alcune professioni. Non facciamo confusione. Non facciamo confusione, perché la confusione non serve a nessuno. serve semplicemente a spaventare ancora di più quel 15% di persone che per loro tutela dovrebbero vaccinarsi. Lei non è preoccupata dei 3 milioni di persone che hanno più di 50 anni e che non vogliono vaccinarsi? Non andrebbe a spiegargli se li conoscesse tutti i 3 milioni perché secondo lei vanno vaccinati? Io sì, sinceramente. Se fossi un medico lo farei molto volentieri e con più anche argomenti. Do l'esempio e quindi io mi sono vaccinata, ho fatto già la doppia dose di vaccino, l'ho fatto perché ci credo e soprattutto per proteggere chi è più anziano di me, tra l'altro. Io sono preoccupato, ad esempio, sui milioni di malati oncologici, cardiologici, con malattie croniche che hanno subito dei ritardi e poi vedremo nelle tabelle dell'Ista tra qualche anno queste responsabilità perché questa campagna che ripeto è divisiva il Green Pass, tutte queste iniziative hanno il tema non di difendere la salute perché se noi volessimo fare il vaccino obbligatorio lo sapete che gli eventuali effetti collaterali sarebbero rimborsati e questi signori del governo non lo vogliono fare per quello. Quando noi siamo andati a fare il vaccino abbiamo firmato una liberatoria dove se a me mi vengono le orecchie grandi così non posso chiedere nulla né al Ministro della Sanità né alla Regione né al Big Pharma cioè ai grandi che hanno fatto i vaccini ed è per questo semplicemente che non vogliono mettere l'obbligo vaccinato. Lo capite? E quando Barbero parla di ipocrisia c'ha assolutamente ragione. Io non ho capito. Anch'io sono preoccupata come Marco Rizzo per i malati oncologici che stanno aumentando perché ci sono e da due anni che non vengono fatti gli screening ma il modo migliore per evitare che aumentino ancora di più i malati oncologici che tra l'altro è parlare solo di vaccini è chiaro No, guardi non è questo non è questo è cercare di liberare gli ospedali come lei saprà perché anche lei che non è una persona che hanno avuto si liberano assumendo medici si liberano raddoppiando la spesa sanitaria come falsamente ha detto il suo Ministro Speranza nel maggio del 2020 andatevi a leggere su Google raddoppieremo i medici del 115% dove sono finiti andatevi a vedere la tabella del Recovery Fund dall'Europa arrivano 19 miliardi in 6 anni c'è prima la parità di genere rispetto alla sanità pubblica vergognatevi e lo dico non solo alla sinistra ma anche alla destra perché siete la stessa roba Ma lei sa benissimo che i medici non crescono sugli alberi abbiamo cercato di fare tutto il possibile per avere più medici Sì, da 30 anni lo state facendo da mezzo milione di posti letto siamo arrivati a 130 mila posti letto è una vergogna siete servi delle privatizzazioni siete servi delle privatizzazioni Posso un attimo Rizzo bisogna stendere il Green Pass non si capisce niente va bene bene così confusione al potere benissimo Allora adesso torno da voi però pubblicità poi devo fare una domanda ad Alessandra Ghisleri sempre a proposito di questi temi ci vediamo tra pochissimo Allora Alessandra Ghisleri intanto una battuta da esperta anche di comunicazione quale lei è che cosa è mancato sta mancando in quell'opera di convincimento dei NIVAX mettiamola così cioè in quella percentuale come diceva lei di preoccupati di spaventati di incerti Forse che cosa c'è di troppo nel senso che ci sono talmente tante informazioni che il rischio è quello che quando ciascuno di noi fa delle scelte consapevolmente o inconsapevolmente sceglie dei punti di riferimento il rischio vero della politica che cammina su un crinale molto pericoloso perché trattando materie così delicate riguardo la salute pubblica poi il rischio è che gli elettorati seguano il leader e non le prescrizioni mediche allora ecco perché diventa difficile far capire alle persone dove posizionarsi e come e evidentemente questo affollamento di informazioni dettato anche se vogliamo dall'inizio dall'inizio della pandemia c'è stata confusione perché abbiamo compreso perfettamente che la scienza ha bisogno di tentativi per trovare la soluzione ha un metodo quello galileiano di andare oltre purtroppo c'è talmente tanta sovraesposizione che il rischio è quello che le persone si affidino al leader politico piuttosto che a una prescrizione a un pensiero razionale perché siamo umani e quindi noi ci affidiamo a dei punti di riferimento e per qualcuno la politica è ancora un punto di riferimento però adesso io vi permetto di farlo anche alla presenza di una sondaggista e un'esperta come Alessandro Ghisleri vi voglio fare vedere un cartello cartello sondaggio SVG TG la 7 di ieri sull'obbligatorietà del vaccino e il cartello numero 2 lo dico a beneficio ecco del nostro regista quando il 63% ovviamente degli interpellati per questo sondaggio si dice favorevole e poi scopriamo che la maggior parte di favorevoli è tra diciamo i potenziali elettori del PD e il 70% di elettori della Lega allora c'è qualcosa che dobbiamo capire nel senso Ben ci spiegava la Ghisleri i leader magari anche per mancanza come dire di altre sicurezze per l'incertezza uno segue i leader e però se io dovessi stare a quanto ci rivela questo sondaggio dico allora tutto quello che dice Salvini adesso c'è il riferimento della Lega non è seguito dagli elettori della Lega o è ignorato dagli elettori della Lega come stanno le cose? no allora intanto bisogna dire che noi abbiamo attestato anche nei nostri sondaggi abbiamo attestato anche com'è l'universo dei vaccinati e l'universo dei vaccinati avendo vaccinato almeno con una dose il 75% della popolazione ha all'interno anche il 70% di quello che è l'elettorato della Lega quelli che sono un po' meno vaccinati sono gli elettori di Fratelli d'Italia ma perché proprio c'è un taglio diverso dall'inizio un messaggio molto più chiaro giusto o sbagliato che sia è quello il messaggio il vato vero è che c'è anche quella parte di popolo che vuole delle risposte e vuole chiarezza ecco perché io parlavo di un crinale molto pericoloso perché ovviamente si spinge in una direzione e nell'altra e spesso la confusione è più è maggiore di quelle che sono le indicazioni secche perché se Salvini fosse tu cur no vax allora il suo popolo potrebbe scegliere tra lui e chi invece ha favore su determinate posizioni invece essendo una posizione mista allora a quel punto ciascuno è libero di scegliere poi ricordiamoci che non si sceglie solo su questa base essere leghisti essere del PD o essere si sceglie sul mercato e il tema vero sul quale si fanno le scelte in questo momento è l'economia delle famiglie ecco perché ad esempio i tamponi gratuiti risultano essere anche per chi è già vaccinato un punto di riferimento perché si va incontro a una situazione di spesa ad esempio oppure l'accesso gratuito agli asili la possibilità di avere dei servizi questo è il tema vero che interessa le persone quindi quelle posizioni occupano uno spazio in questo momento importante ma essere vaccinati o meno è una scelta che riguarda la persona ecco perché la politica sta rischiando è un terreno molto scivoloso moltissimo eh sì hai ragione la politica sta rischiando peraltro Draghi va dritto come un treno insomma anche nella conferenza stampa recente per la ripresa diciamo dell'attività di governo insomma l'ha fatto capire chiaramente insomma il governo segue una strada poi il Parlamento e le forze politiche anche perché sono imminenti le elezioni comunali poi tutti lo sappiamo poi rivendicano scelte identità e via dicendo però lo dico rivolgendovi a Barbara Saltamartini visto anche quello che ci diceva all'inizio proprio Alessandra Ghisleri cioè oggi per gli italiani è importante tutto il tema della salute della vaccinazione cioè del poter ritornare in qualche modo dalla vita di prima mettiamola così e quindi tutte le forze politiche o scettiche o comunque non convinte di questo poi in termini elettorali questo non è pagante probabilmente o no se la Lega avesse dovuto fare un discorso veramente elettorale forse non sarebbe entrata al governo Draghi come legittimamente ha fatto per esempio Fratelli d'Italia noi abbiamo fatto un ragionamento diverso in un periodo eccezionale il Covid la crisi pandemica e con le conseguenze che questo ha prodotto abbiamo deciso di stare in un governo con forze con le quali siamo in questo momento insieme ma che ovviamente con le quali ci confronteremo alle elezioni ognuno dalla propria parte non in alleanze ovviamente elettorali perché perché secondo noi stare con la Lega al governo c'è una ovviamente questa è l'opinione nostra insieme a Forza Italia c'è la possibilità di arginare alcune cose senza di noi per le quali senza di noi al governo si sarebbe andata avanti penso per esempio all'aumento delle tasse penso per esempio alla patrimoniale penso che le tesi che la Lega porta all'interno del governo anche riguardo alle piccole e medie imprese al sistema industriale italiano siano importanti anche grazie a questo si sta andando in una direzione anche perché il governo diciamo totalmente composto da centrosinistra allargato perché non so bene mai fino a dove arriva il centrosinistra se comprende anche Rizzo il Parlamento no perché non c'è però in termini di idee un banchiere non può avere l'appoggio di Rizzo quel tipo di governo l'avevamo già visto era il governo Conte 2 abbiamo visto secondo noi e anche secondo molti italiani quali sono i danni che ha prodotto quindi siamo entrati al governo Draghi per dare il nostro contributo convinti che servisse un governo chiamiamolo di emergenza nazionale per poter affrontare insieme questa crisi pandemica quindi questo periodo eccezionale diciamo quello che lei sta dicendo è quello che dice anche il segretario del PD Letta cioè è una situazione straordinaria di emergenza anche il PD mai con la Lega diciamo in futuro io lì a Quarta Pelle io l'onorevole Quarta Pelle saremo alle elezioni nazionali saremo lei da una parte io dall'altra questo è scontato ma nel rispetto delle proprie idee ma non neanche voglio dire apparteniamo a partiti diversi apposta voglio dire se no magari eravamo iscritti allo stesso partito è un momento eccezionale ti chiedo a Rizzo con un tweet poi volevo tornare da Quarta Pelle quest'idea della politica che si scontra in realtà è una politica assolutamente ininfluente infatti hai detto bene tu prima Andrea Draghi va per la sua strada poi lascia libero il Parlamento di fare il giochino della politica oggi la politica non conta nulla tant'è che se vediamo per la prima volta abbiamo un banchiere che governa il nostro paese e anche lo dico con rispetto sulle persone sulle posizioni politiche anche la cosiddetta opposizione di Fratelli d'Italia quando poi si sostanzia ad esempio nel voto più importante che è quello del decreto milleproro che Barbara Saltamartini lo sa si trova l'astensione di Fratelli d'Italia a Draghi con la motivazione della grande stima a Draghi e la caporetto della politica comandano davvero la grande finanza i grandi potentati economici e la politica è un laghetto dove ognuno ha la sua paperetta e gioca lì io voglio stare fuori da quel laghetto anzi lo voglio prosciugare no se ti candidi non puoi dire che puoi stare fuori ma cosa c'entra ma io sono andato a Siena contro Letta se ti candidi non ne sei fuori fammi parlare è una crisi secondo me della politica e assolutamente ragione forse non della politica della classe dirigente politica non banalizzare il mio discorso io sono andato a Siena a candidarmi contro Letta è realistico che io non batto Letta anche perché è una corazzata contro un canotto dal punto di vista della finanza ma andando a Siena a candidarmi avevo 27 giornalisti che hanno sentito il nostro punto di vista usiamo le elezioni per far capire per quello che si può che un altro modello di sistema è possibile allora facciamo così devo tornare lì a Quartapelle le chiedo un po' di pazienza perché è arrivato Paolo Sottocorona breve panoramica sulla situazione del tempo in questo inizio di settimana e poi torno da lì a Quartapelle buongiorno Paolo sì buongiorno buongiorno l'occhio cade necessariamente al sud dove imperversano una serie di temporali molto frequenti ma a quest'ora così come nei giorni scorsi soltanto sul mare la previsione per oggi però vede questi temporali anche sulla terra nel pomeriggio e segnatamente Sicilia e Calabria poi qualche breve pioggia qualche fenomeno c'è anche un po' sulle zone alpine sull'Appennino centrale ma è poca cosa l'instabilità continua a essere centrata proprio in questa zona vediamo la giornata di domani mercoledì ancora questi fenomeni in Sicilia e in Calabria ma in questo caso possono presentarsi nel pomeriggio anche vedete in Campania sul Lazio in parte sull'Umbria sempre con deboli precipitazioni sulle zone alpine e sulla Liguria di Levante il segno anche lì forse di qualche fenomeno un po' più intenso giovedì si comincia a vedere un cambiamento perché questa insabilità ancora in parte presente al sud su alcune zone del centro ma piuttosto blanda tende a rinforzarsi invece in Sardegna perché a ovest c'è una zona di bassa pressione questo probabilmente cambierà qualcosa nel tempo soprattutto per il centro-sud nei giorni nei giorni successivi questo tipo di tempo mantiene ovviamente al sud delle temperature più basse del normale perché piogge e temporali proprio un flash per questa foto che ci manda Claudio da Calapiccola siamo all'Argentario non è un postaccio come si dice con vista su Giannutri e questi quattro puntini che sono stati messi sulle nuvole non esistono linee rette non esistono cerchi perfetti natura ma ogni tanto qualche geometria viene rispettata grazie grazie Paolo Sottocolona allora qualche minuto di pubblicità riparto poi Dalia Quartapelle anche perché non solo la replica a quello che si è detto fino adesso ma dobbiamo dire qualcosa anche sulle elezioni comunali su quanto poi le forze politiche al di là dei sondaggi misureranno i loro veri rapporti di forza tra poco allora torno Dalia Quartapelle per chiederle questo cioè è chiaro che ci avviciniamo a grandi passi a queste elezioni comunali che interessano molte città insomma la maggior parte delle città più importanti mettiamola così d'Italia è una partita aperta poi adesso chiederò una cosa alla Ghisleni perché ieri Renzi ha fatto i suoi pronostici ma insomma questo è un altro aspetto quello che però le volevo dire se in questo momento tornano legittimamente le pulsioni sull'identità sulla visione delle singole forze politiche però molte volte poi la domanda è ho capito ma qui si deve fare il bene dell'Italia o il bene dei singoli partiti in una fase ancora molto difficile da una parte per una pandemia che non è ancora sconfitta e dall'altra tutta la partita economica perché anche lì è come se avessimo già acquisito il recovery plan italiano i fondi europei invece stiamo abbiamo appena cominciato o no? Guardi io penso come lei che tutti quanti noi ci dobbiamo sforzare per fare il bene dell'Italia e sforzarci in questo caso vuol dire anche andare d'accordo tra forze politiche che non sempre vanno d'accordo per questo anche il dibattito che abbiamo fatto finora su Green Pass obbligo vaccinale io lo trovo un po' surreale perché bisogna misurarsi con le cose non con le opinioni dei leader detto questo a livello nazionale cerchiamo di fare il bene dell'Italia a livello locale cerchiamo di fare il bene dei cittadini delle varie città e qui vanno al voto cinque grandi città Torino Milano Bologna Roma Napoli e in tre di queste sicuramente la situazione insomma va cambiata perché l'amministrazione di Napoli con De Magistris che ha fatto un buco del bilancio comunale stratosferico l'amministrazione di Roma che non bisogna neanche lavorare o vivere a Roma per sapere che Roma è in uno stato drammatico per essere la capitale del nostro paese buche rifiuti trasporti che non funzionano burocrazia comunale lenta la situazione di Torino dove tra le tante cose che non sono andate l'ultima è di oggi che è stata vietata il Gay Pride con delle motivazioni insomma collegate alla pandemia che però fanno pensare insomma una città che proprio fa fatica su tante cose a esserci al livello a cui ci eravamo abituati a vedere Torino sono tre amministrazioni che vanno cambiate e su questo non è nel senso se chi ha governato per chi non era il governo ha fallito ci si deve presentare con delle idee diverse che siano delle idee che parlino poi di concretezza e non di cose assurde per cui un piano dei trasporti su Roma un rilancio di Torino anche dal punto di vista produttivo un rilancio di Napoli che è una città straordinaria e che l'amministrazione dei magistri si ha per dieci anni mortificato questo è quello che si fa poi nelle campagne elettorali se si riesce si trova un punto di accordo arrivati alle elezioni non si trova un punto di accordo e si fanno delle proposte diverse poi c'è Milano e Bologna dove io credo i sindaci di centrosinistra hanno governato bene non lo credo solo io penso che lo pensino anche le forze di centrodestra che in entrambe le città hanno candidato il pediatra con la pistola a Milano e un personaggio sconosciuto a Bologna e lì invece ci proponiamo di continuare un lavoro fatto bene spero che anche i cittadini lo riconoscono Salve Ghisleri ieri Renzi ci ha detto a Milano non c'è dubbio che rivincerà Sala quindi centrosinistra Bologna Lepore quindi centrosinistra Napoli Manfredi che è l'unico candidato sostenuto sia dal PD che dal Movimento 5 Stelle a Torino dice Renzi la partita è molto aperta tra lo russo centrosinistra è il candidato del centrodestra da Milano a Napoli a Roma dice ancora Renzi la partita è aperta tra i quattro diciamo tra i tre sfidanti della Raggi cioè Calenda Gualtieri e Michetti ma se fossi a Roma dice Renzi voterei per Calenda e poi dice in Calabria dove c'è l'elezione invece del nuovo governatore per la prematura scomparsa come sapete di Iole Santelli in Calabria vincerà il centrodestra dice Renzi e nelle elezioni suppletive di Siena con grande dispiacere di Marco Rizzo dice Renzi vincerà Enrico Letta beh parte da mica poco Letta parte dal 70% ma intanto voglio sentire come la pensa mica è uno che va a lottare arrivano da Parigi con l'elicottero con l'aereo vediamo vediamo come la pensa Alessandro Ghisel intanto condivide queste previsioni di Renzi allora vuol dire che non dobbiamo più fare il nostro lavoro lasciamo a Renzi anche un nuovo un nuovo c'è un bel competitor si attenta allora intanto bisogna dire che la battaglia delle amministrative si sviluppa su due livelli diversi il primo turno e il ballottaggio il primo turno vedrà il centrodestra e il centrosinistra in un confronto interessante certo nelle città Bologna è solo in qualche caso è stata vinta dal centrodestra quindi lo sappiamo è una battaglia molto complicata Milano Sala è in campagna elettorale e non ultimo come dire anche il Salone il Supersalone sta giocando sicuramente a suo favore e in questa in questa situazione ma la situazione poi a Torino e tutte le altre città ci sarà un primo turno interessante dove sarà il confronto dei partiti e quindi anche l'appoggio il secondo turno diventerà ancora più interessante perché nel ballottaggio le forze politiche saranno costrette a convergere su determinati personaggi con determinate alleanze politiche e lì la vera lotta si vedrà se il PD e il Movimento 5 Stelle troveranno una quadra laddove i candidati non sono in sovrapposizione e così via un altro dato interessante del primo turno elettorale sarà il conteggio all'interno delle coalizioni PD e 5 Stelle da una parte e dall'altra parte invece Lega e Fratelli d'Italia perché il dato vero è che ovviamente i partiti andranno alla conta dei loro voti e in molte situazioni proprio Fratelli d'Italia ha dimostrato che più che vincere è una battaglia l'ha detto anche uno dei candidati illustri come Vittorio Feltri del punto più uno del partito all'interno della coalizione e questo sarà un nuovo gioco importante perché rimescolerà quelle che sono le caspe e soprattutto ad esempio per la Lega tolto Trieste tolto alcune città ma piccole non c'è quei grandi parterre che riguarda il Veneto ad esempio il Piemonte tolto Torino che Torino sappiamo anche come Bologna è una città fortemente di espressione di centrosinistra infatti non a caso il centrodestra ha espresso un candidato civico proprio per questo motivo anche se molto vicino all'area di centrodestra allora in questa situazione i partiti cercheranno di ripesare i loro ruoli e Fratelli d'Italia nel centrodestra molto come il PD nel rapporto con il Movimento 5 Stelle e anche con tutti i piccoli partiti satelliti insomma ci sono nelle stesse aree di riferimento dei competitor tra loro in qualche modo ci sta dicendo Alessandra Ghisleri e quindi la partita sarà doppiamente importante per capire gli equilibri sorride Barola Saltamartini e poi c'è riferimento mi scusi riferimento ai candidati civici perché poi colpisce che appunto a Roma è stato scelto Michetti ci sono altri esempi a Torino a Milano a Torino a Napoli un altro esempio che diciamo imparentato con questa discussione è che Letta Siena si presenta senza il simbolo del suo partito il partito democratico cioè sembra un altro elemento di debolezza che i partiti quasi si vergognino a far venere i propri simboli ma perché voglio avvocare su di sé la vera forza politica attenzione perché Letta ha bisogno siccome è stato scelto Letta ha bisogno anche di un'incoronazione senza il partito vuol dire che lui può essere anche leader in un'altra modalità certo ora non la vedo così diciamo la lettura che dà la dottoressa Ghisleri io non la vedo proprio così però rispetto a Letta intendo dire io vedo un altro elemento interessante in questa campagna elettorale qual è? che il centrodestra è sempre compatto in ogni competizione in ogni città il centrosinistra si è diviso in mille rivoli questo è un dato secondo me importante per i cittadini perché devono sapere che c'è una coalizione di centrodestra che sul territorio dalla regione ai comuni corre e corre insieme e quindi poi che all'interno di questa coalizione ci sia anche la voglia del singolo partito di arrivare un voto sopra l'altro per carità ci sta anche sinceramente a differenza di quello che pensa Vittorio Feltri io credo e parlo soprattutto per la città dove mi candido io credo che i cittadini prima ancora di sapere se prenderà un voto più la Lega di Matteo Salvini o Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni credo che interessi sapere quali sono le idee che abbiamo per la città e quindi io mi auguro che la competizione interna alla stessa coalizione sia quello di portare nelle città dove si va al voto idee proposte per dare soluzione ai problemi che vivono le nostre città mi auguro che sia questa la competizione elettorale e non il punto percentuale sopra o sotto sinceramente almeno questo è quello che dobbiamo fare da qui a 4 ottobre al primo turno poi lì si farà la prima valutazione all'interno dei partiti poi però c'è il secondo turno perché non dimentichiamo nessuno di noi che il vero problema è portare le persone a votare perché poi forse il partito oggi è più grande è quello dell'assenzionismo non so ora i dati che ha la dottoressa Ghisler in tal senso però credo che la grande sfida sia riportare la gente a votare dopo due anni molto complicati dove la politica non sempre ha dato il miglior esempio ecco sì e questo diciamo è la legittima preoccupazione di tutte le forze politiche poi vedremo finalmente dopo anche già dopo il primo turno vedremo la consistenza e potremo paragonare questi numeri ai sondaggi che ancora oggi credo diano secondo tutti i sondaggi ma Alessandra Ghisleri mi conforterà Fratelli d'Italia come primo partito ancora no Alessandra Ghisleri sì Fratelli d'Italia è il primo partito però io voglio ricordare sempre una cosa i sondaggi hanno un errore statistico che nella media dei mille casi è del 3% sì una differenza inferiore al 3% vuol dire che i due dati sono in sovrapposizione quindi noi abbiamo quattro partiti che sono Fratelli d'Italia Lega PD e non ultimo anche il Movimento 5 Stelle soprattutto in sovrapposizione col PD che giocano il ruolo di leader all'interno della classifica dei partiti perché è importante ricordarlo perché quel punto in più quello che dicevo prima è il fatto proprio di raccogliere voti all'interno di una nazione e raccoglierli invece in determinate città è completamente diverse cioè non a caso i candidati spesso sono civici perché hanno proprio questo ruolo completamente differente il sindaco è molto vicino ai cittadini viene scelto forse anche prima la persona del partito e il supporto del partito è fondamentale vediamo anche a Roma la lotta tra i primi quattro candidati che sono ovviamente quello di centrodestra di centrosinistra la raggia e calenda allora in questa in questa in questa bagarre c'è proprio la scelta tra l'uomo e il cittadino e il politico è vero ha ragione Barbara Santelli cioè il dato vero è che la vista del politico è quello di presentare il programma il problema vero del cittadino è quello di vedere il programma aderente alle sue idee ma non c'è dubbio che i politici si contano perché altrimenti non ci sarebbe un confronto politico mi veniva da dire che la scelta dei candidati civici a volte è dovuta anche al fatto che nessuno su questo adesso guardo Saltamartine e centrodestra nessuno dei tre partiti trovava un'intesa sul nome e quindi il candidato civico metteva tutti d'accordo diciamocelo francamente perché forse i partiti o alcuni partiti non parlo solo del centrodestra potevano metterci la faccia direttamente però la faccia è importante guarda a Siena Letta non mette la faccia perché a Siena quello che succede col Monte dei Paschi di Siena quello che è successo col Partito Democratico lo avrebbe evidentemente indebolito ma io sono un segretario di un partito che si candida a Torino a Roma a Milano a Ravenna e non mi vergogno della mia faccia guardate quando la politica scende a camuffarsi vuol dire che è il segnale definitivo che la finanza e l'economia comandano sulla politica al di là degli indirizzi della politica fatemi andare da Mirta Merlino arrivo arrivo lì a Quartapelle voglio andare da Mirta arrivo subito un attimo adesso torno da lei Mirta buongiorno ciao bravo Andrea vieni da me sono d'accordo buongiorno ben trovato allora ragazzi dobbiamo capire che succede vaccini green pass lavoro obbligatori l'economia vola forse anche la Lega sarà costretta molto presto a dire di sito tutta la linea ne parliamo oggi con Massimiliano Romeo rappresentanti come sapete di spicco della Lega molti ospiti importanti il direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana Alessandro Sallusti direttore di Libero e ancora Chico Tessa Simona Bonafè siamo in collegamento dai palazzi perché appunto il decreto green pass è in giro per le aule e ancora arriva Walter Ricciardi ieri ha detto se non ci vacciniamo a 90% tutti vorrà dire che il vaccino dovrà essere obbligatorio ma si può mai arrivare al 90% e poi una pagina molto interessante questo non è un paese per sindaci proviamo a capire perché mille difficoltà tranne per uno perché Vittorio Sgarbi che verrà vuol fare sindaco assessore qualunque cosa ma lui è un tipo particolare lo sapete io vi aspetto grazie 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 Mirta tra poco la reggaettina lì a Quartapelle proprio un tweet stava dicendo una cosa su Letta prego non capisco ancora una volta la confusione che crea Rizzo Letta si candida a Siena dove noi abbiamo perso il comune più di mettere la faccia in un collegio non scontato dove ci sono un sacco di difficoltà non vedo cosa si deve fare poi per carità capisco che Rizzo non ci voti va bene così anzi si candida contro di noi e questo dice quanta distanza c'è purtroppo tra noi e lui spero non tra i suoi elettori e noi grazie grazie a Lia Quartapelle grazie ad Alessandra Ghisleri grazie a Barbara Saltamartini grazie a Marco Rizzo domani il nostro appuntamento è come sempre alle 9.40 vi lascio alla reggaettira